Siamo con Fabrizio Rolando, allenatore dell'Ubita Volleyball di Serie B. Venite da un 3-2 importante, perché avete conquistato un punto alla Spezia la settimana scorsa, una gara non facile, ma che siete riusciti comunque a portare fino in fondo in maniera positiva secondo me, Fabrizio? Sì, di positivo c'è in questo girone, l'avevamo detto già in precedenza, questo girone è molto equilibrato, andare a fare punti in trasferta non è mai una cosa da dare per scontata, è una partita molto strana è stata, noi non si conoscevamo molto gli avversari perché fino all'anno scorso erano in un altro girone, avevamo visto video e tutto, sappiamo che sono una squadra che è andata sul mercato, ha comprato molto e quindi sono attrezzati. Partita strana, noi abbiamo giocato a tratti, come penso che sia normale, come tutte le squadre fanno, perché anche loro hanno giocato, i set che hanno giocato ci hanno messo in difficoltà parecchio, poi noi siamo riusciti, abbiamo riusciti a ritrovare il nostro gioco e siamo riusciti ad andare al tie-break, quindi alla fine poteva essere una trasferta senza punti, prendi un punto e quindi è positivo. Senti, non è un caso che Spezia e Santa Croce siano primi in classifica, anche se siamo solo all'inizio del campionato, però questo è già un dato che emerge secondo te, è un dato che potrà essere definitivo o ci saranno sorprese per quanto riguarda la parte alta della classifica che vi vede in terza posizione in questo momento? Sì, adesso c'è da dire che a causa del tempo molte squadre non hanno giocato, ci sono stati almeno tre incontri, tutti quelli del Bolognese, rinviati perché c'è stato un maltempo, ha causato pochi problemi, quindi la classifica dice poco, anche perché bisogna vedere gli incroci, bisogna vedere chi si è affrontato, è sempre bello finire con dei punti, quindi noi prendiamo quello che facciamo noi, non guardiamo ancora gli altri, poi la metà del giro nell'andata, già quando ci saranno un pochino più di incroci, si vedrà quali sono veramente le squadre più attrezzate per stare là in cima. Questo sabato giocate le 21 al Palama Roncelli di Marina di Grosseto, arriva il Max Italia Jumbo Office di Firenze, che partita sarà e soprattutto che cosa sai dell'avversario? L'avversario si conoscono perché è la squadra che abbiamo già affrontato l'anno scorso, i giocatori importanti li hanno tenuti, hanno fatto acquisti dove avevano un po' di carenze e sicuramente loro sono una di quelle squadre attrezzate per stare in alto. Non so come possono ancora giocare perché, ripeto, hanno fatto la prima giornata, la seconda pausa, quindi noi abbiamo informazioni solo su una gara e loro ha 15 giorni che sono fermi, verranno da noi, noi in casa abbiamo il dovere di comunque cercare di essere più competitivi possibili, hanno giocatori con esperienze di Serie A, che noi conosciamo bene. Mi aspetto una partita molto difficile, speriamo di riuscire a giocare una prova dignitosa. L'ultima domanda, come sta la squadra? Stanno tutti bene? Sì, dai, l'inizio non è stato facile, ma adesso da quando è iniziato il campionato riesco a vedere con costanza tutti i giocatori, abbiamo fatto molti allenamenti, però anche i giocatori importanti sono tornati ad allenarsi e anche lì domenica vediamo i passi sabato, vediamo i passi che abbiamo fatto in avanti. Per adesso viviamo ancora giornata per giornata e sperando di trovare un po' il filo del gioco. Grazie. Grazie. Grazie.